Seconda parte dell'ottavo capitolo della storia Il risveglio dell'oscurità di Tekken 8 Mi sembra che Jin Kazama ha sconfitto Ling Xiaoyu Il solo pensiero gli spaventa Sei ancora lo stesso Jin che conosciamo Non perdere di vista quello che vuoi proteggere Conosce questa ninna nanna Jin Sua madre gliela cantava sempre Ma che succede a quell'albero? Dove è iniziato tutto? Magari lassù c'è qualche indizio Ma che ti succede Jin? Ok vi saluto il video è finito Iscrivetevi al canale e mettete un mi piace Subito